C'è un bello stile al tavolo, ha una bella impostazione, questo dovrebbe essere il futuro Hermes, occhio! Ma anche le dita come li tengono bene, perché tanti quando perdono la forza le dita diventano piatte così, fanno così, invece se riesci a tenere sempre la conca con le falangi che quasi si impuntellano sopra, ma non deve essere la presa corta e chiusa così, deve essere lunga e impuntellata, e già che a te non ti si piegano come succede la maggior parte delle volte, è già un buon segno Cazzo che... E' nato imparato